Luciano Capicchioni è il nuovo presidente dei Krebs, oggi è stato presentato l'organigramma societario, quali sono e chi coprirà le altre cariche? Le altre cariche saranno ricoperte vicepresidente da Giancarlo Sarti e consigliere da Adriano Pace. Il presidente onorario sarà Braschi. I Krebs vengono da un periodo difficile, la società negli anni passati ha passato diverse vicissitudini, quale sarà la ricetta di Luciano Capicchioni per venire fuori da questa situazione? La ricetta è quella di non spendere soldi che non hai e usare i ragazzi che abbiamo, cioè noi abbiamo un bel settore giovanile e abbiamo già visto che con il nostro settore giovanile abbiamo già avuto dei buoni risultati in serie B. Quindi nei prossimi anni si continuerà su questa linea? Sì, direi che fino a quando sarò presidente o partecipe alla direzione della Rimini Basket la politica sarà quella dei giovani e di lanciare i giovani. Qual è adesso la situazione economica della società? La situazione economica che ha ancora dei debiti per Greci che dovrà liquidare, attualmente però i bilanci sono stati ridotti in modo di poter affrontare i vecchi debiti.